Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guertz, bentornati in compagnia di Vosmart.it Era tantissimo tempo che non portavo un video di Xiaomi, o meglio tantissimo tempo no, ma per essere Xiaomi posso dire sì. Tantissimo tempo, oggi sono in compagnia del Mi 10 Pro che avevo qua in ufficio, perché? Perché l'ho aggiornato di recente alle patch di ottobre, questa non è assolutamente la riprova dello smartphone, ma siccome avevo questo smartphone appunto in mano, quindi il Mi 10 Pro, mi sono messo lì a guardare un pochino i menu di questa MIUI 12, i menu, i sottomenu, le cose fighe che magari nelle recensioni oppure nei canali YouTube non avete visto e ho trovato ragazzi la figata del secolo. Quindi io vi chiedo una cosa, qua sotto ragazzi voi fan Xiaomi non che voi chiamate questa tipologia di video, lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi al canale YouTube, mettetevi comodi perché scommetto che tranne i più nerd di voi, quelli che proprio nel profondo amano Xiaomi, conoscevano questo trucchetto. Allora, prima di spiegarvi il ragionamento, quindi come arrivare a effettuare questa piccola figata, io vado su YouTube, va bene? Vado sul canale DevoSmart, a meno così non rischio il copyright, non rischio che mi blocchino questi pochi spiccioli che ci paga YouTube, e vado ad aprire un mio video, ad esempio il video che uscito oggi sul Galaxy Fold 2. Aspetto l'annuncio pubblicitario, quindi aspetto un attimino, schippo. E come potete vedere io sto parlando, no? Metto un attimo in pausa. Immaginatevi di aprire YouTube e aprirvi la vostra playlist musicale preferita, perché magari non avete Spotify e perché, non lo so, ascoltate i video da YouTube. Allora, tramite una piccola gesture di attivazione, qua sul display, io vado a schiacciare il tasto Riproduci da dispositivo spento. Riproduci l'audio a schermo spento, scusatemi per essere proprio pignola al 100%. Quindi cerco di raccontarvelo. Quindi faccio partire il video, schiaccio questo, automaticamente il display si blocca, lo vedete, ma io continuo a parlare, non si ferma il video. Guardate. Avete già capito cosa sto immaginando io? Le vostre playlist musicali possono essere fruite tramite la MIUI 12. Questa credo sia una chicca della MIUI 12. Poi fatemi sapere un po' voi nel box dei commenti come si attiva il tutto, Guerza. Allora, è molto semplice, dovete andare nelle impostazioni del vostro smartphone Xiaomi, perché come vi ho detto fa parte della MIUI 12. In fondo trovate funzionalità speciali e dovete cliccare su strumenti video. In questo caso dovete per forza tenere tutto attivo e in più, gestisce le app video, dovete aggiungere YouTube, perché di default sarà disabilitato. Quindi voi andate a schiacciare su YouTube e automaticamente potete avere questo menu contestuale all'interno di YouTube stessa. Poi la figata non è solo questa, perché all'interno del menu contestuale, una volta attivato, non c'è solo la riproduzione al display spento, ma c'è addirittura la cattura dello schermo, registra, insomma, ci sono tanti sottomenu che dovete andare a controllare. Secondo me non lo sapevate, questa funzione nascosta, o meglio questa chicca della MIUI 12, veramente un'interfaccia che bisogna scoprirla piano piano. E devo dire che questa funzione può veramente essere utile per tantissimi di voi. Io vi aspetto qua sotto, come sempre nel box dei commenti e anche per quest'oggi dal Buonguerza. È veramente tutto e ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti ragazzi!